In arrivo per i vini e gli oli siciliani la prestigiosa vetrina del Vinitaly di Verona in programma dall'8 al 12 aprile e la regione mette a punto le nuove strategie per rilanciare a livello internazionale la nostra enogastronomia. Una Sicilia enologica e miniatura rappresentata concretamente con immagini e attraverso il design dello spazio espositivo che diventa una vera e propria mappa delle 17 aree più vitate dell'isola e dei suoi arcipelaghi, dei vini prodotti e dei beni culturali di ciascun'area di territorio. Ecco come si presenterà il padiglione della regione all'edizione 2010 del Vinitaly di Verona che aprirà i battenti il prossimo 8 aprile. Ci presentiamo con una peculiarità, quella di essere un territorio pressoché unico nell'accoppiare alle bellezze della terra dal punto di vista archeologico, architettonico e artistico alla bellezza della terra sotto il prodotto della natura e quindi del vino in modo particolare. La novità più importante è quella di avere fatto una proposta alle nostre aziende che l'hanno raccolta ben volentieri, quella di incontrare preventivamente alcuni buyer e importatori per conoscere le identità dei mercati in un ragionamento che oggi va molto direttamente agli aspetti del consumo, dividendo anche le produzioni che si offrono per fasce nel rapporto qualità-prezzo che oggi rappresenta una fascia vincente. Il produttore non soltanto presenta i suoi vini ma dice in quale fascia questi vini e questo naturalmente interessa dai mercati ai supermercati, all'enoteca, alla ristorazione più qualificata e più raffinata. Quindi individuare anche e dare un'idea dei percorsi che le aziende possono fare. Grazie alle capacità organizzative dell'Istituto Vite e Vino è stata creata una vetrina ragionata di 8.000 metri quadrati, un viaggio tra i vini di Sicilia che partendo da Pantelleria passa nell'isola e chiude nell'arcipelago delle Olie. Nonostante la forte crisi e la contrazione dei consumi, sono ben 260 le aziende vitivinicole siciliane che hanno deciso di puntare su un immediato rilancio, assicurandosi la presenza alla Kermess internazionale con proprie risorse. I costi di partecipazione che ammontano a circa 1.200.000 euro provengono infatti dalle aziende che hanno aderito al nuovo modello organizzativo. Le aziende, nonostante momento di difficoltà, ci sono e vogliono proiettarsi al mercato. Anche questa la conferma che il vino in Sicilia non è solo una questione di 10-15 grandi aziende ma è un fatto che riguarda circa 300 aziende, pur con differenze varie, ma soprattutto quest'anno per la prima volta si riuscirà a mettere bene in evidenza la grande diversità enologica della Sicilia. I 17 territori in cui sarà diviso il padiglione Vinitali, da Pantelleria a Salina, da Monreale a Siracusa, rappresentano una peculiarità enologica che possono rendere grande la Sicilia e affascinare sempre di più il consumatore di vino nel mondo. Diciamo sempre bere vino in Sicilia per ricordare, non per dimenticare. Un modello che corrisponde alle linee guida della cabina di regia della regione per gli interventi nella promozione e nella comunicazione, che a tracciati ha applicato una strategia comune tra pubblico e privato, che razionalizzi gli investimenti e riqualifichi in un unico brand l'identità vitivinicola siciliana. Grazie. 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 Grazie.